oh buonasera a tutti eccoci una nuova sessione di assassin creed black flag sotto non so si sente ho messo giovinezza è perché ci sta oh hi val i just see you video in a youtube channel yes finally i listen your voice l'obiettivo è individuare le prede e ucciderle good luck and have fun good luck leader contratto verso oh Oh Tu sei come superman? X-Ray! X-Ray in the isles! X-Ray in the isles! X-Ray in pale No! 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 Malto su staying! I can't wait! No, no! Bye, bye, bye! When it's all the emojis come out! I'm sorry! It's all the emojis. Oh 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 I don't listen to me, I think. Ok. Ok. Alla prossima. 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 Apponement in this game Sì, devo dire che comunque è stata una A parte, ecco, i falsi K.O.H Questo Tam Tulara Che E non dimentichiamoci Che i veri K.O.H hanno la O Piccola, perché non abbiamo bisogno Di copiare gli altri Come fanno loro Noi abbiamo la O piccola Questa è la vera tag regolare del nostro clan Il resto sono soltanto pura imitazione Nuna di che Però, vabbè Del resto, come diceva quel tale L'imitazione è la più alta forma di coso L'imitazione è la più alta forma di rispetto Si vede che il loro piccolo Questa gente comunque ci rispetta Meglio così, sono contento per loro Un gg a tutti Grazie per aver seguito Questa micro partita Le musiche sono partite così Perché ho messo una cosa su Youtube Poi è andata a Mano Libera Adesso è andata su Deutschland Usando per Alice e altre cose Però non ce ne frega niente L'accompagnamento musicale è quello che ci piace di più A poi scendere dai gusti musicali O da Credenza Ci rivediamo ancora sui server Ragazzi Non abbandonate questo canale Non abbandonate le stronzate che vi lasco a dire Un saluto a tutti i Youtubers E tutti i giocatori di Assassin's Creed Un saluto per la comunità di Assassin's Creed In questo mondo See ya frumella